Ciao, mi chiamo Massimiliano Rossi, sono un attore doppiatore e ho prestato la mia voce per l'audiolibro di Giulio Fa Cose. Non immaginate quanto avrei voluto conoscere Giulio personalmente. Mentre registravo l'audiolibro che ne raccontava la vita e il dramma, sono cresciuti dentro di me dei sentimenti così opposti che in qualche momento ho avuto difficoltà a non cedere all'emotività. Sentimenti di ammirazione e stima verso un ragazzo in gamba, curioso, aperto, un ragazzo generoso e allo stesso tempo una grandissima frustrazione per non averlo potuto conoscere personalmente. E poi un sentimento fortissimo di rabbia che cresceva ad ogni pagina quando raccontavo i dettagli del suo omicidio e una grande indignazione verso il governo egiziano per i depistaggi, per le falsità che hanno usato per screditare la reputazione di Giulio. Leggere il libro la prima volta e reinterpretarlo per l'audiolibro leggendolo una seconda volta è stata una vera e propria immersione nel mondo di Giulio Regeni, al punto che pur non avendolo conosciuto personalmente ho avuto quasi la sensazione che fosse un mio caro amico da sempre. Ecco, Giulio continua a fare cose anche in questo modo, a raccogliere amici vecchi e nuovi come sta accadendo anche oggi. Io avrei voluto essere lì personalmente per ricordare un caro amico che mi manca, per abbracciare Paola e Claudio, per ringraziare Alessandra per tutto quello che sta facendo, per ascoltare dalla voce dei suoi amici qualche ricordo in più di Giulio. Insomma, per alleviare una specie di nostalgia strana che riguarda una persona che non ho mai incontrato ma che in qualche modo mi è entrata nel cuore. Mi raccomando non abbassiamo mai la guardia finché la verità non sarà immersa. Nessuno più di Giulio Regeni lo merita. Un abbraccio a tutti.